ciao buonasera guarda marcan and band here band salutare di ciao band e noi saremo da voi entro molto molto breve anzi sarà il 11 agosto grazie associazioni lampus al lido azzurro dell'euca ma comunque arriviamo alle 22 e saranno facciamo un grande evento con tanto amore e tanto divertimento vero venite 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 tutti quanti all 11 agosto domenica domani 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 dobbiamo andare arriviamo ciao 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 ciao